Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Come si verrebbe nella mappa, tra il 16 e il 17 si avvicinerà una massa d'aria gelida al colpino ed ecco che entro il 17 avrà colpito praticamente quasi tutta l'Italia con una termica di meno 4 su tutto l'adriatico, intorno agli 0 gradi sul tirreno, ovviamente 1500 metri e meno 4 su gran parte della pianura padana. Poi ecco la giornata del 18 avremo una meno 8 su tutto il Trentino, parte del Veneto e parte anche della Lombardia meno 4 sia sulle corse tirreniche che quelle adriatiche. Poi invece per quanto riguarda la giornata del 19 marzo avremo termiche intorno al meno 4 su tutta la pianura padana meno 4 ancora su gran parte dell'adriatico e tra meno 2 e meno 4 su gran parte del mar tirreno. Sulla Sicilia avremo poco e niente. Poi il 20 si allontanerà un po' di gelo e avremo però ancora termiche abbastanza importanti al nord Italia una termica a meno 4 su gran parte del nord-est, intorno agli 0 gradi su gran parte del nord-ovest e delle coste tirreniche. Su quella adriatica è ancora tra la meno 2 e la meno 4. Sicilia e Calabria niente, almeno per il 20. Ecco qua però il 21 dove potrebbe tornare del gelo veramente molto forte una meno 8 su gran parte del centro-nord ma anche parte del sud, specie sulle parti adriatiche tra la meno 4 e la meno 8 anche sulle coste tirreniche la meno 8 su gran parte della pianura padana meno 8 che potrebbe colpire anche la Puglia interamente la Basilicata e la Campania quindi gran parte del sud per quanto riguarda la Calabria e la Sicilia tra la meno 2 e la meno 4 poi ecco il 22 dove ci saranno le correnti più umidi che appunto spingeranno verso nord e quindi faranno ritirare un po' di gelo comunque avremo una termica a meno 4 ancora su gran parte del nord-ovest tra 0 e meno 4 al nord-est e intorno agli 0 gradi sul centro e sud Italia ovviamente a 1500 metri per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento medio ancora buona domenica arrivederci e grazie